Il vero protagonista di campo soriano è il carsismo. Il paesaggio è letteralmente scolpito dall'acqua per erosione chimica, che agisce con particolare intensità sulle superfici calcaree, creando forme e strutture caratteristiche, sia all'esterno, carsismo epigeo, che sottoterra, carsismo ipogeo. La forma di superficie più tipica del modellamento carsico è la dolina, dal termine Slavodol, valle, una conca chiusa, a forma di scodella o di imbuto, formata dall'acqua che si infiltra sottoterra in corrispondenza di un inghiottitoio che può essere visibile o rimanere mascherato dal suono. Dove l'acqua si infiltra i vuoti si ampliano. Il suolo in superficie, trascinato dall'acqua, sprofonda e piccoli abballamenti diventano piccole voragini che si allargano nel tempo come quella che si può osservare ai margini del vignetto qui di fronte. L'allargamento e la coalescenza di più doline generano anche vallate o pianori detti poglie, come quelli di Campo Soriano. Darwin è il carsismo L'intera superficie della Terra, è esposta all'azione chimica dell'aria e dell'acqua piovana, con l'acido carbonico che essa reca disciolto. Dato che le cose stanno così, siamo costretti ad ammettere che le scarpate devono la loro origine in massima parte, al fatto che le rocce di cui sono composte hanno resistito all'erosione atmosferica meglio della superficie circostante. Conseguentemente questa superficie si è gradualmente abbassata, e le linee di roccia più dura sono diventate sporgenti. Nulla ci dà l'impressione dell'immensa durata del tempo, secondo la nostra concezione del tempo, più della convinzione che ci siamo formati, che gli agenti atmosferici, che risultano così poco potenti e lavorano così lentamente, sono riusciti a produrre effetti talmente rilevanti. Estratto dall'origine delle specie varianti della sesta edizione al capitolo 9. Le terre rosse. I suoli più diffusi sul fondo delle doline sono le terre rosse o ferretti. Residui del processo di dissoluzione carsica, questi terreni sono ricchi di ossidi di ferro e alluminio, da cui il colore e il nome. A Campo Soriano le terre rosse presentano un colore più scuro del solito per l'abbondante presenza di sostanza organica, possiedono una considerevole componente argillosa, utile per trattenere l'acqua e nelle zone pianeggianti raggiungono spessori considerevoli.